Wee wee, amici del web, buonasera a tutti Adesso sono qui per fare un video ASMR Associazione Sanitaria Milf Rancorose Cominciamo subito, durerà 4-5 minuti questo video, ok? Utilizzerò una mia nobile arte per fare questo suono rilassante Uh, dopo un po' ti viene da vomitare Dopo un po' ti viene da vomitare Un po' ti viene da vomitare Ma voi lo sentite? Sì Ho perso totalmente la sensibilità alle guante Ho leccato il ferro per sbaglio Ahah, piccolo! Daniele, sinistra o destra? Destra! Sinistra? Guarda, con la destra sono più bravo Non lo faccio vedere, non si può vedere Se non si vede tutto il braccio No lo faccio vedere, non ho appezione Un po' ti viene da venire La mancala rosare La mancala rosare Il braccia era molto più bravo Anche le giuste La puoi a presto No, sopra non fa rumore 4, 3, 2, 1, 0 No, sopra non fa rumore